Noi siamo per la tutela assoluta del patrimonio immobiliare, per Forza Italia è una priorità, non solo nessuna tassa in più, ma semmai c'è i dollari secchi anche per le locazioni commerciali, vantaggi fiscali come appunto i bonus, ecobonus, ristrutturazioni, 110%, facciate, perché poi tutto questo valorizza il patrimonio immobiliare e quindi crea anche un vantaggio per lo Stato perché ci saranno dei bonus fiscali in un settore, ma altre attività produttive potranno alimentarsi, svolgersi e generare su altri versanti introiti fiscali per lo Stato. Per noi la casa, l'immobiliare è assolutamente centrale, vogliamo politiche fiscali quindi di vantaggio e di salvaguardia di questo settore e vogliamo professionalità intorno alla casa, la lotta all'abusivismo, la difesa a forme più moderne di concezione dell'attività anche dell'agenzia immobiliare, sono fondamentali perché tutto questo arricchisce il sistema, tutela l'utente e quindi alla fine valorizza quel prodotto così importante per tutti gli italiani qual è la casa.